Sì, tutto è cominciato con grande forza di volontà, un sogno che si sta realizzando. Queste pagine, che profumano di inchiostro, raccontano la storia di Enrico Morando, conosciuto oggi come pioniere del pet food in Italia e imprenditore lungimirante che ha saputo vedere oltre. Prima di tutto però era un uomo umile, di grandi valori, che ha vissuto la guerra e ha dovuto superare numerosi ostacoli. Ma non si è fermato mai. Dopo anni di duro lavoro, il genio imprenditoriale di Enrico lo porta a cominciare una nuova avventura, che ha permesso ai cani e gatti di mangiare all'italiana. Queste pagine raccontano la storia di una famiglia che da tre generazioni ha saputo tramandare, di padre in figlio, la capacità di innovare e crescere. Sì, quelle parole mi hanno indicato la strada da seguire e affiancando mio padre ho iniziato la mia esperienza nell'azienda di famiglia. Lui mi ha guidato con affetto e rigore, anche quando è giunto per me il momento di supportarlo nella realizzazione di importanti siti produttivi. In questi anni ho riscontrato in lui, che aveva solo un'istruzione scolastica di base, una grande volontà di creare una notevole capacità imprenditoriale e un grande coraggio a confrontarsi con personale, di grande spessore nelle multinazionali e con importanti istituzioni. Un uomo di forte carattere, ma sensibile ed attento alle esigenze dei dipendenti e dei collaboratori, che tuttora lo ricordano con affetto e simpatia. Parlare di mio papà come figlio mi commuove tantissimo. Parlarne invece da imprenditore mi inorgoglisse per aver avuto un così grande maestro. Intelligenza, coraggio e lungimiranza erano le sue caratteristiche ed io, insieme a mio fratello Giovanni, abbiamo avuto il privilegio di stargli al fianco in tutto il percorso di crescita della nostra azienda. È stato un papà ed un imprenditore severo, ma col passare degli anni ho capito che lo sviluppo e la crescita di un'azienda richiedono comportamenti decisi e per tutto questo non finirò mai di ringraziarlo. Ciao papà. Con mio nonno ho pensato molte ore semplici e serene. Non avevamo bisogno di fare grandi cose per essere felici. Non avevamo bisogno di fare grandi discorsi. Ho avuto la grandissima fortuna di passare molto tempo con mio nonno e questo libro, Non fermarti mai, è dedicato a lui. Soprattutto un titolo voluto e contingente per la situazione socio-economica in cui attualmente ci ritroviamo. Enrico Morando è il mondo pionieristico, imprenditoriale e la grazia, la virtù, l'intelligenza, l'intulto e l'umanità per il prossimo. Amava studiare le proprie aziende, non fermarsi mai. Anche negli ultimi suoi anni di vita passò sempre fino all'ultimo le giornate in compagnia della propria famiglia, nel confrontarci, nel cercare di crescere tutti insieme per il bene dell'azienda stessa. Con noi nipoti, Franco, Laura e Enrica ricordava volentieri la sua infanzia e la sua giovinezza con racconti, aneddoti e storie, a volte felici e divertenti, a volte tristi e difficoltose. Ma in tutte queste storie emergeva la sua grande passione e il suo coraggio nel realizzarle. Anche ai pronipoti, figli miei ed Enrica, ha cercato con tenerezza e semplicità di trasmettere i valori in cui aveva creduto, come ad esprimere il suo forte desiderio che venisse garantita una continuità sia familiare che lavorativa. Questa, credo, sia una delle più importanti eredità che ci ha lasciato mio nonno. Ho ricordi molto dolci di mio nonno, pur non avendolo vissuto quotidianamente come mio fratello e mia cugina, non lavorando a stretto contatto con lui. Ricordo con affetto i pranzi della domenica, le nostre chiacchierate sulla mia università e i suoi consigli sempre molto lucidi. Solo lui era in grado di essere così razionale. Alla fine credo che le persone non muoiano mai quando restano nel cuore e sono sicurissima che mio nonno sia rimasto nel cuore di moltissima gente, perché mio nonno era un uomo elegante, soprattutto nell'anima. La storia di Enrico Morando è una storia da conoscere, è un'opportunità importante, ma oggi direi che è indispensabile, perché nella personalità, nell'avventura imprenditoriale ed umana di Enrico Morando, noi vediamo tutte le qualità che sono necessarie oggi agli imprenditori, in questo periodo, in questo momento così difficile per tutti. Bene, questa è una storia familiare, una famiglia che ha dato lustro e si sta impegnando in un'azienda importantissima nel panorama italiano. Una storia che io vi invito a conoscere e a leggere.